5 minuti alle 6 è il momento di Rai pubblica utilità, saluto e auguro buon lavoro da Alessandra Canale. Buongiorno Massimiliano, ricambio il buon lavoro e un buongiorno a tutti i nostri telespettatori. La viabilità in questo momento è scorrevole su gran parte della rete, come peraltro mostro le immagini che monitoriamo in real time ad altezza di Prato, come vedete si viaggia agevolmente senza nessuna difficoltà, scendiamo nel tratto capitolino dell'A24 in direzione della tangenziale est e anche qui si viaggia agevolmente senza nessuna difficoltà. Ad ogni modo inizio a comunicarvi che questa mattina si è verificato un incidente tra 4 auto di cui una ribaltata sulla 1 Modena-Bologna, il tratto è quello che va da Modena-Sud a Modena-Nord in direzione Milano, ma comunque è in fase di ripristino questo incidente. Altri due incidenti interessano la capitale, esattamente sulla tangenziale est all'altezza di via Tiburtina e l'altro su via del mare, fortunatamente senza nessuna difficoltà alla circolazione. Oggi è una domenica, come ogni domenica ci sarà il divieto di circolazione nei mezzi pesanti, quindi la viabilità è favorita, dallo stop ai camion dalle ore 9 alle ore 22. Sulle fronte meteo le previsioni del tempo, comunicateci dell'aeronautica militare, indicano molto nuvoloso al nord, con nevicate sulle Alpi e pioggia su Liguria, tra Piemonte e Lombardia, nuvoloso sulle regioni tirreniche e pochi nubi altrove. Ad ogni modo, in questo momento, fate molta attenzione sulla 1, la Roma-Napoli, perché c'è presenza di nebbia con visibilità ridotta, ma anche sulla 13, Bologna-Padova e sulla 25, Torano-Pescara. Pertanto vi ricordo che il limite di velocità scende da 130 km orari a 50 km orari, qualora il quadro visivo sia inferiore ai 100 metri. Queste, Massimiliano, sono state le notizie di maggior rilievo. Grazie e restituisco la linea a voi tutti una piacevole domenica. Arrivederci. Grazie ad Alessandra Canale.